Radio vacanze, fantastica giornata, è comunque un sabato alla grande direbbe qualcuno, no magari a venerdì siamo qui a Grotte di Castro, siamo in attesa di vedere l'info point, l'inaugurazione c'è già tanta gente, ovviamente sarà solo il primo collegamento, poi dopo l'inaugurazione parleremo con il sindaco, state qui con me, con Gianluigi Radio vacanze, con Piera Viaggio e Veto, raccontare il territorio, una passione. Gianluigi Radio vacanze, questa è la realtà, è il prodotto finito, siamo all'interno dell'info point di Grotte di Castro, un pieno centro, Antonio il sindaco ha voluto farci vedere che cos'è il lavoro della sua comunità, vero Antonio è questo che dici? Sì esattamente, questo è il risultato finito, che prima di tutto definirei bello, è un bellissimo posto, oltre che servirà e sarà utile a fine di connettere Grotte con il resto del mondo. Abbiamo fatto un lavoro, hanno fatto un lavoro, per onestà diamo a Cesare quel che è di Cesare, i progettisti e chi poi la ditta che ha eseguito i lavori, veramente di grande eccellenza.